Amici di Unica Channel, apriamo la pagina dedicata alla cronaca. Napoli questa mattina si è svegliata così. Manichini impiccati in tutta la città. Una manifestazione messa in atto dai disoccupati appartenenti alla sigla precari BROS. Una protesta questa plateale contro la crisi. Il messaggio preciso è ora basta, vi metteremo alle corde. E per chiarire ancora di più il senso, la scritta è accompagnata dal disegno di un cappio. Suicidio ad Afragola, provincia di Napoli, si tratta di una donna di 50 anni. Non si conoscono le generalità. Sul posto, in via Gaetano Ciaramelli, centro della città, è intervenuta la polizia del commissariato di Afragola. Secondo cui la donna è stata spinta al folle gesto, non per problemi economici, ma per motivi personali. Viveva da sola e già 5 anni fa aveva tentato di togliersi la vita. Ed è orrore anche a Castellammare di Stabbia. Giuseppe Niglio, pescatore di 60 anni, tenta di violentare una sedicenne. Ma il padre della ragazza di nazionalità tunisina si è vendicato per la violenza sessuale subita dalla figlia. E così ha ucciso il pescatore a coltellate davanti alla caserma dei Carabinieri. Cinque persone questa mattina sono state arrestate dai Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico per il furto di antichi volumi e manoscritti custoditi nella biblioteca dei Girolamini di Napoli. In carcere anche Massimo Marino De Caro, direttore della struttura, fino al 19 aprile, quando aveva annunciato la sua autosospensione dall'incarico. E questa è l'ultima notizia di questa edizione. Presto nuovi aggiornamenti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS